Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, oggi faremo il tour della mia stanza, molto velocemente che già ho failato prima questo qui sono i letti dove dormo, guarda, lì c'è il tablet, il cappellino tuo e lì c'è la scatola della crema 50 e niente di cuscini che mio fratello si è voluto rubare comunque, dove capper è finito il mio telefono raga, ce l'ho in mano il telefono vabbè, qui c'è un pettine, calze, tutte le cose qua c'è una bella palla, è sempre in modo volgare, detto così, zitto qui ci sono le carte, vi faccio vedere qui con un caricatore, e ce n'è anche uno lì qui non c'è un cappero di niente e qui ci sono le cose per mio fratello di capelli che dovete vederli, appena li vedete vi spaventate infatti io, guardate quanto sono bello sui capelli, non riesco a incontrarmi, lo faccio però sono troppo bello aspetta ok, vabbè lascio mostrare la brutazza di loro due qui ci sono le coperte che non servono a un cappero di niente che è estate, tanto e l'ultimo video l'ho fatto sempre in Sicilia ma a casa del mio amico ok, non stavo registrando qui ci sono le cose, tipo i braccialetti i giochi che non servono a un cappero di niente poi c'è questo gioco che non servono a un cappero di niente perché non spara tanto no, guarda che c'è il pulsante dietro e vabbè, qui ci sono delle magliette che non servono a un cappero di niente ok ragazzi, sono ritornato questo è il secondo cassetto con delle magliette tutti i vestiti delle mutande di mio nonno un costume che non servono a un cappero di niente e chiudiamo questo costume non servono a un cappero di niente 10 minuti vabbè ragazzi qui ci sono i gli altri vestiti ci sono i costumi qui aspetta, vediamo se non servono questo lo riusciamo ad aprire no, non riusciamo ad aprire c'è poi queste sono delle magliette di mamma che non servono a un cappero di niente invece i cappelli servono a un cappero perché guardate pure i fazzoletti? sì, che non servono a un cappero di niente poi questo cassetto lo so, ci sto perdendo molto tempo anche a cassetti ci sono delle cose qui ci sono altri vestiti nel cassetto sotto passiamo nel mio armadio nel mio armadio sto dicendo ci sono dei vestiti che ho portato da Milano e un cappero di niente poi ci sono dei vestiti di mio fratello e un cappero di niente qui c'è zitta ci sono delle scarpe delle ciabatte che non servono a un cappero di niente lì ci sono delle altre scarpe che non servono a un cappero di niente e lì c'è un altro cassetto che non servono a un cappero di niente per me per mio fratello sì vabbè ragazzi adesso faremo un adesso faremo un bel tour del mio giardino vedete anche la macchina qui e a dopo ok adesso sto registrando ragazzi visto che Sofia è in Abba cioè eccola là forse vi ho ancora capito ma lei è in Abba anche tu sei in Abba perfetto qui c'è la macchina che vi dicevo prima qui c'è la sala qui